Ciao ragazzacci, io sono MietroSt5 e siamo qui su 3 Mechanics 1,17 Allora, facciamo altri questi qua, accettare, vai, accettiamo subito quello col prezzo più alto Quelli col prezzo più alto ci faranno un attimo un po' più mettere in panico Controllo lo stato del pantografo anteriore, va bene, il pantografo anteriore ci metto un attimo a controllarlo Mi basta andare qui sopra, guarda, lo becco da qui, lo becco Ci voleva un attimino sta scaletta un po' più vicina perché a volte non me lo fa prendere bene bene Quindi vai qua, ok, vai sul tetto, poi ti allunghi fin qua Questo è l'anteriore, vero? Penso di sì Ok, sì, dai, ho trovato già la causa del problema, quindi smonta, smonta, smonta questo Che devo smontare quello lì sotto, quindi devo per forza togliere tutto Quindi smonta questo, smonta questo Non me lo fa togliere, ah perché devo togliere questo qui, perfetto Poi fammi togliere questo, qui sotto come si è messi? Mi sembra che questo qui è da cambiare, guarda, questo è da cambiare e basta Quanto è uno sull'anteriore? Tubo, sì, ho trovato la molla, me ne manca un altro sull'anteriore Buono, però aspetta che intanto magari mentre smonto me lo fa vedere Però il pantografo è finito qua, quindi c'è qualcosa che non va Stato il pantografo anteriore Il pantografo è tutto questo, non è che c'è altro pezzi Cioè dopo che hai preso questi pezzi qua è finito Questo è il pantografo, non c'è più niente Bene, mi fa molto piacere che mi fa esaurire Scatola dell'impianto frenante Questa è ventilazione Eh no, però, scusi Controlla lo stato del pantografo anteriore Non trovato uno, quindi c'è qualcosa che non mi torna Allora, non lo trovo, intanto sapete che faccio? Vado a controllare quello posteriore Eh, che vedevo di... Poi magari spunterà fuori che era un'altra cosa Ok, quello posteriore, vedi qua, è bello che è rotto Cioè smonta questo, guarda, si vede, tantissimo si vede Me lo fai smontare? Certe volte si impalla anche lo smontaggio Mi fa molto piacere Cosa bellissima Smonta questo Ok, forse non vuole smontarlo perché l'incarico... Ok Ah, quello è il posteriore Posteriore è uno, ma lì ce ne stanno dieci, ce ne stanno Mi fai smontare questo pezzettino, scusi? Perché non me lo fai smontare? Guarda, se mi devono far esaurire Guarda, è da esaurimento Non è ancora perfetto sto gioco Possibile che tutti i giochi che trovo io devono essere con qualche bug Quindi vai qua Non me lo fa smontare Pantografo, tetto Guarda, quale ho trovato questi altri due pezzi? Mi mancano, guarda Se noi guardiamo Mi mancano uno e uno due E sono proprio questi qua Li hanno messi male, però Sono quelli Solo che se non mi fa andare Che vedevo di... Guarda Non mi fa smontare sta cosa Perché? Chi è che gli dà fastidio? Pantografo strisciante Cioè, uno e uno due Li ho trovati Devo solo capire perché non mi fa accedere Cioè, questi sono Non è che puoi inventarti Guarda, non mi fa cliccare Che cavolo Che cos'è oggi? Ok, l'ho tolto Non so come E devo togliere anche quello Diciamo che ci sono un bel po' di errori in questo gioco E la cosa a me non piace mai Quando ci sono degli errori, eh Una volta mi dicono Trova una cosa Che poi era da tutta altra parte Una volta mi dicono Fai questo Cioè, a me non piacciono i giochi fatti così Cazzo, dovete controllarli i giochi Prima che escano sul mercato Perché se no stiamo qui Alle persone diventano matte Eh, vabbè Comunque Non mi faceva cliccare adesso Non ho capito mica perché Vabbè Eh, infatti Sono entrato subito così Tipo Aspetta, aspetta, aspetta Non ti smontare Sei smontato prima di fare tutto Ma non ho capito neanche io perché Eh, allora Questo qui al 100% E lo riparo 26% Ok Quindi, vai Riparo anche questo qui al 33% Mmm, va bene C'è qualcos'altro Eh, che cos'è da riparare? Questo qui al 5% Lo riparo Cioè, praticamente è distrutto Ma io lo riporto al nuovo E questo qui ci provo Non guardiamo, non guardiamo, non guardiamo Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Vai, perfetto Di solito non guardo Perché così Così sono sicuro che le cose si fanno Ok, perfetto Allora, ho riparato tutto Andiamo a montare Sperando che me li faccia montare Perché non è detto che me li faccia montare adesso La cosa che non capisco è perché Hanno fatto questa cosa qui troppo alta Non hanno messo tipo Un qualcosa per Ecco, vedi qua Non c'è Non c'è la parte da montare Eh, caspitina Devo non fare così Devo fare tetto Ok Ah, devo fare tetto Perché io prendo la parte sbagliata Ok, quindi adesso ho capito perché non mi funzionava Perché forse avevo preso un motore Però pensavo Si vedeva Dico, forse me lo fa prendere Devi stare attento anche a dove clicchi Per fare questa cosa Ma Vabbè C'ho qualche dubbio nella mia testa Quindi andiamo di qua Poi Pantografo 2 Quindi questa parte qui Penso di averla tutta messa C'è qualcos'altro Qui c'è questo E qui come si è messi Ok, lo strisciante Va bene Quindi questa parte qui è a posto Ma andiamo a vedere quell'altra E lo vedi qua Per esempio Se tu devi cliccare da una parte all'altra Esci un po' matto Esci Quindi vai qua E aspetta Quello, quello voglio andare a vedere Ok Quindi montiamogli anche questo pezzettino Perfetto Mettiamogli la mollettina Qui sotto E un po' Un po' mi fa esaurire a me il gioco Quindi vai di qua Siamo a posto No, ci manca questo Dovremmo essere finiti adesso Dai Altri due cosini Tubicini Cosettine varie Pantografi Cavoli vari Ok Quindi Incarico Completato Completo l'ordine Abbiamo speso Pochissimo Abbiamo speso Cioè neanche me lo immaginavo Abbiamo speso proprio Una cavolata Premi per il basso costo Guardate qui Per il basso costo Quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro Nel magazzino Non è che c'è qualche schifezza No Me li toglie già lui Quindi mo per scendere di qua Com'è che si fa Così Tac Andiamo a prendere un altro Un altro Incarico Visto che ci siamo Scusa Quindi vai di qua Incarico Prendiamo la numero 8 Sì Così Facciamo la numero La numero Questa qui 7 Facciamo la 7 Facciamogli in ordine Perché devo prendere la 8 Che la 7 poi mi rimane lì Mi sento male tutto il giorno La locomotiva Ah l'impianto di raffreddamento Di acqua e olio è danneggiato L'impianto di raffreddamento Non mi chiedo Dov'è Scusi Dov'è l'impianto di raffreddamento Eccolo 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 Quindi con la V Si toglie la lamiera esterna Perché ovviamente Non si vede niente Non si vede Quindi questo qui Guarda Fai il collaudo Ma si vede occhio nudo Uno è questo Quindi lo puoi smontare Vai smontalo Com'è che non me lo fa togliere Non me lo fa togliere Perché no Chi è che gli dà fastidio Mica ho capito Chi è che gli dà fastidio Non me lo fa togliere Lui dice che non me lo fa togliere Vabbè Comunque l'ho trovato E anche questo qui è da togliere 1 e 1 2 Fammi andare un po' più in qua Magari Qua non c'è più niente Di Ah la batteria Sì Guardate ho trovato anche la batteria No non la posso cliccare Perché è nel livello inferiore Ehm Andiamo di qua Non ho capito Perché questo qui Non me lo fa togliere Ah perché c'è sta pipettino Guarda qui Un tubicino esterno Che ti blocca la vita E chi l'aveva visto Il tubicino esterno Quindi questo va bene Togliamo sto tubicino qua Togliamo quello Ho già trovato le batterie anche Mamma mia Se uno è bravo Ehm Tubicini Tubicini Ok quindi Andiamo a riparare l'impianto di raffreddamento Intanto Visto che siamo qui Come si fa a passare Mettiamo questo qui Se no non vedo Cioè metto la lamiera Se no non vedo il treno Dico ma il treno è sparito No perché è idraulica I tubicini sono idraulica Allora ripara tanto al 100% Quindi sto tranquillo sto Ehm va bene dai Ripara anche questo Ci deve essere un pulsantino Ripara tutto quello che c'è al 100% Di opportunità Perché Eh che cavolo Fai esci pazzo Esci Quindi vai così Guarda riparo tutto Io riparo Non c'è bisogno di chiamare nessuno Me la vedo proprio io Me la vedo 30% E tutto dovrebbe essere a posto 98 98 Ok Per 19 dollari No io non riparo Faccio proprio Non me ne frega niente Non è che mi pagano di più a me Se io riparo le cose Che non devo riparare Entriamo qui nel motore Andiamo in modalità montaggio Quindi seleziona questo I tubicini sono da questa parte E chi li poteva vedere lì Cioè è impossibile Da vedere i tubicini così Quindi questo va bene Poi andiamo qui Selezioniamo quello Poi vai così E montiamo anche qua Ok perfetto Quindi questo qui L'abbiamo già fatto Poi andiamo alle batterie Le batterie quante erano? Due Ma sì che erano due Guarda Smontaggio Togli questa batteria qui Poi vai a quello lì Andiamo all'altro alloggiamento della batteria E togli questa Già le vedi a occhio nudo Le vedi le cose Il buco per passare Eccolo Questa è idraulica E questo è elettrico Ripara 66 Ma non ce la faccio mai Io ci provo eh Non guardiamo Non guardiamo Non guardiamo Non guardiamo Successo Grande Grande Ripara anche questa 66 Non ci guardo Non ci guardo Non ci guardo Fallimento Ok E che caspita Ogni volta C'è qualche parte Che decide di Non aggiustarsi Batterie È già qui quindi Aggiungi a carrello 11.000 euro di batterie Lo dice a me Ti chiamo la dura Ce le vedi che ti fa Delle batterie Con un prezzo minore anche Allora Andiamo qui Andiamo in montaggio Montiamo Una batteria qua Poi andiamo Dall'altra parte F Guarda Sembrava più lungo Questo qui Invece ci ho messo pochissimo E seleziona anche questo Che ci vuole Che ci vuole Andiamo in incarico Tutto sistemato Completa l'ordine Purtroppo Penso di prendere Anche il basso costo Perché ho speso poco Speso Dovrei aver speso pochissimo Quindi premi Vediamo se mi da Qualche altro premi Sì mi ha dato anche Il basso costo È buono È buono Quindi continua Però faccio una cosa Premo T Sul tablet Miglioramenti dell'officina Mi vado a sistemare La parte elettrica Ogni volta sbaglio Con le batterie Allora Andiamo a farci Un altro incarico Tanto sì Dai questa puntata È un po' più cortina Se no Facciamoci un altro incarico Allora Incarico numero 8 Devo andare a beccare Un treno Un treno scomparso Dove è scomparso Sto treno I treni scompaiono D'oggi Che aerei scompaiono I treni Sembrano un po' difficile Dov'è che devo andare Mo' devi dire tu Signore in simulator Mechanic 17 2017 Ho sbagliato proprio il titolo Vabbè lasciate stare Ho sbagliato il titolo Nelle zone desertiche Scusami Dov'è la zona desertica Zona desertica Eh Me lo devi dire Dov'è per la zona desertica Passo montano Giocimenti pretoriferi Pascolo Deposito elettrico Stazione merci Città Porto Deposito diesel E chi lo vede? Grandi laghi Pianure 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 sud E che caspitina Dove l'hanno messo? Canyon Deserto Ok il deserto è qua Deserto nord Est Ovest Ok devo andare in Devo andare in C2 C2 Sì C2 Ok partiamo Vediamo di andare subito Verso C2 Quindi questo qui Subito lo gira All'altra parte Girandolo di qua Dovrei arrivarci No 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 Però di qua non va bene Fermo Frena Frena Esci da questa mappa Esci dalla mappa Frena 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 Non va bene di là Non va bene un corno Devo andare da sotto E poi girare da questa parte E anche in questo caso Non va bene neanche di qua Come faccio ad arrivare al deserto? No mi conviene andare da su E poi fare sto giro Sì 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 Dai andava bene allora Esci di qua Vai a marcia Vai al massimo Dai Quindi andiamo da questa parte Faccio tutto il giro Largo Poi arrivo qua La curva Il deserto più o meno Queste parti qua Deserto est Ovest Sud Deserto nord Non c'è Manca il deserto nord Ma non è un nostro problema Un problema del Del deserto nord Gli hanno fregato il deserto nord Gli hanno fregato No però ci stiamo andando Penso che la zona sia giusta Dobbiamo fare un sacco di chilometri Intanto ci gustiamo il paesaggio Qua mi dice che è sbagliata la cosa Perché mi dice che è sbagliata? Il deserto qua è Lui metto che è nel deserto Perché questo qua Se io lo giro così Non me lo fa girare questo qui Forse perché è sbagliata Questo può andare solo dritto Ok Però questo qui perché non me lo fa girare? Vabbè Per me è giusto però Perché il deserto è questo Io andrei così Andrei Lande desolate L'hanno perso Ah ecco L'ho trovato Guarda l'ho trovato Ho trovato il treno Neanche me ne era accorto Ok Trai il treno Al deposito merci Vabbè Me lo faccio da solo Non me lo faccio ovviamente Oh caspita È piena di cose Trova la locomotiva L'ho trovata Sembra che i danni Della locomotiva Che i danni alla locomotiva Siano gravi Trova tutte le parti danneggiate E sostituiscilo Eh eh ho capito Ma se non mi dici dove stanno Guarda Allora uno già l'ho trovata Sì ma questo è un casino Guarda Entriamo qui dentro Questo sarà difficilissimo Ok Sono già pronto a morire Quindi questo è già danneggiato Questo è danneggiato Io già le so Le trovo tutte prima di smontarle Perché poi lo smontaggio È solo una questione di Clicca clicca Caspita Caspita La cosa non mi piace per niente Questo qui com'è? No questo è a posto Quindi Oh due già ho trovate Me ne mancano Un sacco me ne mancano Allora sono tutte qui sotto Oh eccole Eccole ancora Allora queste qua Già le ho trovate Ok Ah no ma sono anche qui Guarda Tu non mi dici niente Ma io le vedo tutte Le vedo Quindi tre Mamma mia Ci saranno Bigliardi di cose da controllare Fammi controllare dietro Eh lo vedi anche dietro Eh le vedo le cose rotte Le vedo Tu mi vuoi fregare Tipo I amortizzatori Li tolgo Li tolgo subito Li tolgo subito Però tutto il resto È da smontare il mondo proprio Non trovo Cos'è che mi manca ancora? Mi manca un pezzo Un pezzo Che non riesco a trovare Questo è un bel problema Questo qui? No questo già l'ho trovato Qual è il pezzo che non vedo? Ci dovrebbe essere un pezzo strano Che mi farà diventare matto Ok Ti ringrazio eh treno Ti ringrazio di tutto Ti ringrazio Che non sia sotto No ma lo vedrei anche da sopra Seppure che fosse sotto Dov'è sta quest'altro pezzo Che non si fa vedere? C'è un pezzo che si è nascosto Benissimo Si è nascosto Allora scendiamo qui sotto Che noi non scendiamo mai sotto al treno Quindi scendiamo di qua No io di qua non vedo niente Non vedo Non vedo niente di lotto sotto al treno Ok Allora sapete che faccio? Iniziamo a smontare già le cose che sappiamo Che magari smontandole ci viene Ci viene all'occhio Ci viene Cioè lo vediamo subito Risalta meglio se smontiamo qualcosa Quindi questo l'abbiamo tolto Vai un po' più in qua Togliamo questo Ci deve Uh l'ho trovata forse Sapete che è quella molla È una di queste due molle secondo me Questa com'è? Questa è verde Questa è verde No no sono verdi però Allora qual è il problema? Io non riesco mica a vederlo Qual è il problema Guarda Non lo vedi E non te lo fa vedere Che cavolo Uh però lì c'è un riflesso No Qui non c'è niente Andiamo sul carrello Posteriore Sul carrello di trazione Non c'è anteriore e posteriore Ok smontiamo le cose va Quindi smontiamo anche questo Eh bombo è togliere quello Ci vuole una vita Ci vuole Quindi per togliere questo No è una boccola Guarda si toglie subito Si toglie Fantastico Tu come sei messa? Mollettina Mi sembri buona Sì infatti era buona Non riesco a trovare Qual è l'altro pezzettino eh Questo qui lo dobbiamo togliere Quindi fammi Magari Fammelo Dezoomare un po' Se no non vedo niente Eh mi manca un pezzo Mi manca Non riesco a trovarlo A meno che non sia sopra Potrebbe anche essere sopra Perché lui non mi ha detto Dov'è il problema Non mi ha detto Vedi che il problema è quello Quindi potrebbe essere tutto Potrebbe essere Eh caspita Fammi vedere l'incarico Non trovato Non trovato E quello è il mio problema Che è questa qui per caso No questo ammazzatore Mi sembra buono Non riesco a vederlo Allora esci di qua Usciamo da Sto 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 Sembra di essere seppellito Andiamo a guardare che non sia sopra Magari Potrebbe essere sopra Potrebbe essere Eh di qua non me lo fa mai prendere Questa cosa mi fa impazzire Quindi qua Andiamo Uh è il pantografo Scusi signor pantografo Lei com'è messo Mi sembra messo male L'è messo bene invece Non c'entra niente Però sapete cos'è Magari Andando così un po' A girare Lo trovi Non riesco a trovare L'altro L'altro problema Non trovato Lo vedi qua Devo un attimo trovare Sto problema Intanto rimuovo anche Questo ammortizzatore Devo solo capire Qual è quello che gli manca Magari sarà uno di quelli là Piccolini Che non si vedono mai Nella vita Allora Non vorrei che questo qui Non trovato Sia un altro fusibile Come è già successo Che Mi cambia le cose Mi scambia Entriamo nel motore Andiamo a guardare i fusibili Che ogni volta Questo caspita di gioco Qui mi cambia le cose Mi cambia Andiamo qui dai fusibili Due fusibili No Il fusibile Questo qui È da scambiare E anche questo Non riesco a capire Qual è quella parte lì Non trovata Avete qua Perché i fusibili Li ho trovati Quindi io intanto Li smonto questi Che me frega Il 25 E il 15 Quelli sono gli ampere Credo Non penso sia la posizione Andiamo a riparare Intanto i fusibili Quindi i fusibili Io li riparerei Quindi ripara 31 No Il 15 lo devo comprare Quindi compriamo Il fusibile da 15 ampere Quindi col tablet Ho sbagliato Pussante Partire il motore Che non è partire il motore Però vabbè Fusibile No però c'è 15 ampere Ok prendiamolo Carrello Ordina Sì 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 Ordina Ordina Non riesco a trovare Quel pezzettino lì Adesso mi farà impazzire tantissimo Maledizione a me Che mi è venuto in mente Di fare sto gioco Perché ogni volta Io mi perdo nei giochi Poi se non li finisco Impazzisco Ok andiamo a montagli Questo qui da 15 Quindi seleziona E quello lì da 25 Che non capisco ancora Come fare a riparare i fusibili Cioè alcuni sì Però se salta il fusibile è saltato Non potete fare Io intanto devo cercare Quest'altro coso Vediamo un po' Se me lo fa trovare Allora questa parte davanti È perfetta Non ho controllato tutto Controllato Adesso mi viene il dubbio Non è che è qualcosa Qui dentro Perché adesso che mi viene il dubbio Dicono Guarda Guarda Se è questo Mi incavolo da morire Guarda Guarda che schifo la vita Che schifo Ma va Allora non puoi dirmi una cosa E poi fammene fare un'altra Cioè Sembra che i danni siano gravi Chi l'avrebbe mai pensato Una cosa del genere Ma che schifo di vita è Ci ho perso 10 minuti Ci ho perso Quindi andiamo a riparare Tutto ciò che è possibile Riparare qui 100% Ok lo riparo Anche questa cosa qui Se ripara Metti un puzzante Ripara tutto al 100% Cioè tutto quello che è al 100% Lo ripari in un colpo È inutile cliccare uno a uno Cioè questa cosa qui Mi fa perdere solo del tempo Non aggiunge niente Alla simulazione del gioco Cioè non aggiunge niente al gioco Perché tanto è solo clic e aspettare Quindi questo va bene Quindi questo è a posto Andiamo a vedere Nell'altro banchettino Che c'è qui Allora sto fusibile Ok lo devo vendere Questi sono al 100% Avevo tolto anche il motore elettrico Perché dico sicuramente C'è qualcosa di nascosto Allora qui posso riparare Questa boccola Tanto è al 100% E la riparo È ovvio che tutto quello Che posso riparare Lo riparo Già dal 66% in poi Anche dal 50% Lo riparo Ok credo di aver riparato tutto Andiamo a montare le cose Adesso ci perdo la vita Ci perdo Quindi andiamo qua Cos'è che devo Qua adesso devo fare un sacco di cose Sapete che faccio Ok montiamo l'ultimo tubicino E ci siamo Quindi l'ultimo tubicino L'abbiamo preso da queste parti Più o meno Se montami questo tubicino Oh mamma mia Mi ha fatto C'è mezz'ora che sono qui Ok quindi M In carico Completa l'ordine Abbiamo speso anche poco Abbiamo speso Quindi sono contento Spero che mi dia Le locomotive a vapore adesso Perché dopo questa officina Dammi un po' di locomotive a vapore Quindi continua Vediamo se mi fa No non mi ha fatto spostare Perfetto Allora finisiamo questo episodio Noi ci vediamo Nella prossima puntata Sempre qui su Train Mechanic Simulator Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un commento Mi piace Di iscrivervi al canale Se siete ancora tutti iscritti Di condividere il video se potete E noi ci vediamo Nei prossimi episodi Ciao 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 Grazie a tutti.